Nell'ambito del percorso di cittadinanza attiva voluto dal Consiglio regionale che vede la partecipazione degli istituti scolastici, si è svolta presso la sede dell'Assemblea la visita didattica degli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Davinci di Potenza, con la sezione distaccata di Avigliano, ad accompagnare i ragazzi, professori Buccianti, Saporito, Cruoglio e Mastro Cinque. Far conoscere l'istituzione regionale con tutte le sue prerogative organizzative ed operative ai ragazzi delle scuole della Basilicata. Questo è l'obiettivo del progetto che ha la finalità principua di avvicinare i cittadini alle istituzioni. Un percorso quindi sulle leggi e sulle modalità che regolano la vita della Basilicata secondo gli indirizzi decisi dall'ente regione, conoscendone logistica e normative, organi ed organismi. Gli alunni sono stati ricevuti dal garante dell'infanzia e dell'adolescenza Vincenzo Giuliano e dal consigliere regionale Francesco Mollica.